Ok ragazzi e ragazze si può continuare con un altro gameplay Allora come ho chiuso il gameplay precedente insomma Forse ho capito dov'è che bisognava fare qualcosa Però non sono sicuro di questo ve lo garantisco Diciamo che ho un intuito poi magari sbaglio sbaglierò non lo so Comunque facciamo questo scontro Almeno prendiamo un po' di esperienza ragazzi Perché altrimenti se durante il gameplay non si combatte Diventa un po' noioso il gameplay no? Quindi magari a seguire solo la storia vabbè Magari c'è chi non la pensa in questo modo ma va bene Va bene così insomma dai va bene così Va benissimo così Allora vediamo un po' il da farsi Qui vediamo un po' il da farsi Perfetto ragazzi perfetto allora 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 non so se fare anche Ah no non c'è un altro scontro ok Vediamo un po' se il mio intuito mi dice Giusto Vedete qui è in bilico questa roccia no? Eh ragazzi Quindi a questo punto io credo Che la roccia giù che non si poteva spostare Perché non si poteva arrivare a spostarla Credo che ora si sia rotta no? Questo è quello che magari Sapete ragazzi poi come si finisce di registrare E poi si riflette si riflette su dove sbaglio ecco E sbagliavo lì Sbagliavo lì secondo me Allora qui abbassiamo un po' il volume l'audio perché Allora regoliamo un attimo l'audio qui Purtroppo su questo gioco È un qualcosa di micidiale ragazzi È troppo alto l'audio durante Durante scusate i combattimenti E mi dà fastidio Comunque ora andiamo giù Qui l'ha aperto il forsiere Sì Ora andiamo qui e vediamo se come dico io Oppure no Eh ragazzi vedete Il mio intuito non sbaglia mai ragazzi Vabbè mai Diciamo quasi Diciamo quasi Eccola qui ci sarà sicuramente qualcosa da fare Ho avanzato un po' l'audio ma Va bene in questo modo insomma Ehi là là Controlla Ok Ora andiamo da questa parte Anche perché è l'unica direzione dove possiamo andare Quindi non ce ne sono Altre per il momento Ma si dai affrontiamoli questi dai Ecco magari possiamo alzare un altro volume Magari possiamo alzare O possiamo lasciare così tanto Ok stai buoni State buoni State buoni Dovete stare tranquilli Ok va bene così Va benissimo così Allora da che parte si va? Si va di qua? Ok proviamo con l'audio in questo modo Durante le battaglie è il problema ragazzi Perché è lì che sprigiona l'audio Ok così va bene dai Così va abbastanza bene dai Va abbastanza bene Su Allora 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 No Sicuramente non sfugo dalla battaglia Perché non ha senso Non esiste Ok quanti punti punti esperienza mi dai Vediamo un po' E insomma vabbè Allora detto questo Ora possiamo andare qui Vedete ragazzi abbiamo trovato la strada Diciamo la strada giusta ecco Ecco la devo raccogliere Ecco la devo raccogliere Uh 199 ragazzi Ci siamo quasi Quasi 200 Quindi potrò aprire molti Ma molti Ma molti Forzieri Eh sì Eh sì Direi proprio di sì ragazzi Direi proprio di sì Ok dai No Li abbatto come nulla ragazzi Vabbè Li abbatto veramente come nulla Ma sono salito di livello Vediamo un po' Eh sì livello 12 Livello 12 Attenzione Attenzione ragazzi Non è tanto Livello 12 Però Io direi che va molto Va molto Va molto Bene così eh 200 ragazzi Ecco 200 anime Io le chiamo anime Poi ognuno può chiamarle come vuole Comunque Comunque Il gioco ragazzi È bellissimo È bellissimo È bello Per essere bello eh Ok Sì vabbè No allontanati Allontanati Perfetto Ora va tutto meglio Ora va tutto meglio Qui eh Va veramente Tutto meglio Ora Ok Tutti che salgono di livello Va benissimo Così Possiamo Proseguire Ai 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 Lì chi c'è ora Cosa vuole Aha Aha Ora ci sarà da ridere qui Sì Ah ok, una bella boss fight Spero non sia molto complessa Perché Sì, siamo in quattro Però insomma Insomma Vediamo un po' di farla Questa piccola boss fight Perché alla fine è una piccola boss fight Ragazzi, non è che Spero non sia nulla di impegnativo Ecco Speriamo non sia nulla di impegnativo Bisogna sperare solo questo Possiamo farcela Spero di sì Spero di sì Spero non sia nulla di impegnativo 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 Possiamo affrontarli Spero non sia nulla di impegnativo Troppi problemi Ecco Cosa facciamo Cosa facciamo Dovete stare calmi Dovete stare calmi Ok andiamo Andiamo Tanto qui Per il momento Sembrerebbe che non ci sia nessuno Ma Devo andare qui Sì È questa la strada? Sì e beh e beh e questa si ragazzi gioco veramente molto ma molto bello ma veramente bello 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 ragazzi ecco qua vedete è comparsa la nostra destinazione la nostra prossima destinazione quindi però qui la porta sembrerebbe che sia chiusa vediamo un po ok ok si può andare si può proseguire eccoci qui ragazzi eccoci qui vai ok vabbè questo qui lo affronto e li affronto un po tutti perché servono punti ragazzi servono punti e il gameplay mi piace farlo un po movimentato ok mi piace farlo abbastanza movimentato il gameplay ecco risetichiamo un po la barra risetichiamo il tutto qui ok va bene va benissimo va benissimo così perfetto perfetto vai qualcosa ho raccolto vabbè ora andiamo qui combattiamo anche con questo dai facciamoli fuori tutti dai vediamo quanti scontri possiamo fare dai vediamo un po vediamo un po dai dai vediamo un po quanti ne posso fare ok calma 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 ragazzi dovete star calmi qui che ora risolviamo tutto risolviamo tutto si si con questo scontro e beh andiamo 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 va bene in questo modo va bene in questo modo andiamo ancora qui a combattere dai su ok e vabbè allora e allora ditelo e allora ditelo qui un attimo ragazzi un attimo e vai e vai ottimo 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 così mi piace il gioco ragazzi mi piace mi fa impazzire ok non so a voi ma a me così quindi 201 vabbè ora andiamo qui credo sia l'unica strada possibile da fare quindi credo e poi magari posso anche sbagliare ma non credo non credo uhlala vai non trovo più casse però per il momento non so perché dove siete ora che ho le anime per liberarle vabbè siamo arrivati a destinazione qui ragazzi si può dire che siamo arrivati a destinazione si ok cosa succede ora ok quindi ora cosa trovo il secondo meccanismo vabbè tanto qui ci sono una strada ragazzi da fare quindi non è che possiamo far finta ma dov'è dove non è insomma ecco uhlala cosa ho trovato qui ragazzi e allora ditelo che qui mi aspettano tutte queste belle cose che a me interessano ecco qui c'è un po' da combattere qui c'è un po' da da far qualche scontro eh qui c'è qualcosina un po' da combattere che non mi tirerò certo dietro qualche scontro bisogna farlo bisogna farlo eh sì eh sì bene quanta esperienza mi dai ma insomma credevo qualcosina in più credevo qualcosina in più pagano poco ragazzi pagano poco vabbè bisogna andare un po' più avanti nel gioco e poi faremo tutto non vi preoccupate non vi preoccupate non vi dovete preoccupare ok ok dai però muovetevi muovetevi perfetto perfetto combattiamo anche un po' di questo va così li secchiamo tutti li secchiamo tutti voglio seccarli tutti ragazzi va bene li voglio seccar tutti vai no no ricarichiamo qui la questione ok a me ragazzi dite la vostra su questo titolo ma io credo che sia perfetto sia veramente perfetto come titolo questo eh ok scendiamo certamente ok qui c'è l'altro meccanismo da attivare ma io qui ho delle cose da recuperare quindi un attimo insomma ok a questo punto bisogna attivare anche l'altro meccanismo e qui si apre il tutto si apre il tutto ma quindi ora possiamo andare lì oppure ecco in una cassa guardate lì ragazzi come ci si va lì ora ah ok qui da dove sono venuto io quindi da dove bisogna tornare vabbè per il momento ragazzi andiamo qui perché indica di andare da questa parte quindi a Sì, senza! Questo è... ...mi... 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 No Un attimo ragazzi Cosa vi racconto a questo Allora Per vivere la barra di esposizione Puoi lanciare un'arte suprema E ottenere Va bene L2 durando una combo Va bene Proviamo Ecco ragazzi Ho imparato anche questo Ok Vai Cerchiamo di combattere Cerchiamo di far tutto per bene Perché Sarà una boss fight Non credo molto Complicata Che però Comunque dobbiamo un po' impegnarci Ragazzi Perché È sempre una boss fight Di quelle principali Ecco Principali Scusate Allora Allora Sì Vabbè Non c'è problema Non c'è problema Dobbiamo distruggerlo Direi proprio di sì Direi proprio di sì Eh beh Non possiamo certo lasciarlo Fare i suoi comodi Diciamo Ecco Non può fare i suoi comodi Ecco Quindi Cerchiamo di abbatterlo Nel più breve tempo possibile Perché di tempo da perdere Qui ce n'è veramente poco Ecco Ok Dai che manca poco Possiamo farcela Anzi Io direi che vinciamo Sicuramente Senza problemi Senza troppi problemi Poi Ognuno può Può pensare la sua Può dir la sua Ma Credo che sia uno scontro Abbastanza fattibile Ecco Ok Vai Eh non cede Ragazzi Non cede Ora cede Ragazzi Ora cede Ora cede Aizen, puoi poterciare il porto a portare il porto a portare il porto Quindi il porto è giusto, ma cosa cosa fare? Per il porto a portare a portare il porto a portare il porto Oh, oh! Non c'è nulla, Aizen, puoi dire il porto Non c'è bisogno, il porto il porto a portare il porto Non c'è bisogno di farlo? Mi ha pensato anche il porto del porto Il porto dell'Eifrede del porto Questa è la prima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, la battaglia, diciamo, è andata al termine, ecco, vediamo un po' la cosa bisogna fare qui. Ok, va benissimo. Ecco, c'è un altro breve video, credo, spero. Grazie a tutti. 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 Ok, ragazzi, credo che siamo quasi a destinazione. Vediamo un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ragazzi, allora, qui ci sarà, diciamo, un bel po' da fare, perché ci sarà un bel po' da fare, quindi salveremo la partita e poi nel prossimo gameplay... insomma, ci siamo capito... Ok, quindi... Io salverò la partita... Grazie a tutti, ragazzi, 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 e poi nel prossimo video... E poi, ragazzi, ragazzi, e poi nel prossimo video... Andremo avanti con la nostra super missione da fare, quindi... anche questo gameplay...